Del vecchio, allora, le dune, si continua a polemizzare, riqualificazione della Rivera Sud, l'opposizione dice che voi fate il gioco delle tre carte, qual è la verità? Noi facciamo il gioco dei cittadini di Pescara, che non ne possono più di avere strade dissestate, strade allagate e casomai avere qualche fiorellino in più. Facciamo il gioco dei cittadini di Pescara che vogliono una città funzionante, vivibile, anche bella, però contenuta nei costi. La duna è una enorme collina che doveva essere costruita per poi bucarla e spendere 600-700 mila euro soltanto per questa faraonica, neanche troppo faraonica, ma illusoria realizzazione. Abbiamo fatto sì che quell'opera non venisse realizzata, ma non che non venga realizzata la riqualificazione della Rivera Sud che verrà portata a termine, completata in linea con quella che è già stata fatta nell'otto precedente. Utilizzeremo invece quelle spese che per noi erano superfule, non solo per noi, per problemi di emergenza e di criticità. Il consigliere Masci stia tranquillo, il comune di Pescara non perde né un milione di euro e neanche Pinocchio. Non è Pinocchio né il sottoscritto né il sindaco di Pescara. E dimostreremo nel tempo, e neanche troppo lontano, di chi dice le cose vere e chi invece si nasconde dietro fumogeni che non hanno nulla a che vedere con la vera realtà che è quella di una città che ha bisogno di vivere, con risorse sempre più ridotte. Cambiando argomento, del vecchio la situazione di Corso Vittorio qual è, quali sono le novità e poi si parla di una bonifica affidata a privati. La questione di Corso Vittorio Emanuele l'abbiamo sempre detto, non è una questione che si risolve d'amblè tra la sera e la mattina. Non c'è riuscita la passata amministrazione che ha fatto una riqualificazione e non ha mai deciso che cosa lì dovesse accadere. Di una cosa però è certa, Carlo Masci, sempre lui, ha detto una cosa importantissima, non sarà né una pedonalizzazione né una ZTL, sarà una strada che sopporterà tutto il traffico così come era precedentemente. Purtroppo per noi e purtroppo per la città questo non sarà possibile, però faremo di tutto perché su Corso Vittorio ci possa tornare la vita.